Ciao, sono Antonio Ferrero, acting coach, educatore della voce, direttore artistico e fondatore dell'Associazione Area Teatrale di Torino. La nostra associazione ha con un unico scopo la diffusione dell'arte e della recitazione teatrale, cinematografica e del doppiaggio. Il corso di recitazione online che ti sto proponendo tratta lo studio dei mezzi vocali, la creatività, la mimica e lo studio del personaggio. Esamineremo insieme gli elementi espressivi della voce, articolazione, volume, tono, tempo, ritmo, mordente, la corretta tradizione e la musicalità del dialogo. Lavoreremo anche sui colori della voce, ne cito alcuni, amoroso, romantico, affettuoso, narrativo, imperioso, solenne, fiero, convincente, timido, ansioso, afflitto, lacrimoso, implorante, drammatico, interrogativo, iroso, minaccioso, aggressivo, cordiale, conclusivo, ironico, malizioso, scherzoso e sensuale. Faremo delle lezioni individuali della durata di 45 minuti tramite un collegamento Skype, tu ed io. Visita il sito ariateatrale.com, troverai tante altre informazioni e il modo per contattarmi. Grazie e a presto!